Ciao amici Come state? Oggi Abbiamo qualcosa veramente particolare Amarete con me? Vedo Stare Dicono Vedo Vedo L'interno di quel misterioso pauletto sembrò lanciare mille sguardi al giovane inglese, ecco degli occhi che farebbero certo invidia alle gazzelle. Sono gioielli dotati di una sclera così pura. Di una pupilla così umida da fare impressione. La solennità di questi occhi dà proprio la sensazione. La sensazione dell'anima. Distinguite la bellezza degli occhi dalla bellezza dello sguardo. La donna che arriverà qui tra poco agli occhi di una bellezza splendida. Quando distratta, guarda lontano davanti a sé. Dice, ahimè, esso va eliminare gli occhi. L'impercettibile movimento delle palpebre. L'immobilità della sopracciglia. La lunghezza delle ciglia. L'immobilità della sopracciglia. L'immobilità della sopracciglia. e soprattutto a quanto dicono, la circostanza in cui si trova. Tutto questo rafforza l'espressione naturale dell'occhio. Tutto questo rafforza l'espressione naturale. Quando i veri momenti di uno sguardo sentimentale femminile non traspaiano nell'espressione, la carne, la bellezza ne addolciscono in un insieme omogeneo. Grazie. 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 Grazie.